Abbiati nel tratto di spiaggia compreso tra Piazza Colombo e la foce del torrente Piomba a Silvi, i lavori di ripascimento di diversi metri cubi di sabbia che permetteranno a balneatori e turisti una stagione estiva tutta l'insegna della sicurezza. Obiettivo primario del Comune è allontanare lo spettro dell'avanzata delle mareggiate che in questi anni hanno provocato diversi danni alla costa. Intervento che verrà completato entro una settimana, mentre i lavori di pose in mare, delle scogliere, pennelli e barriere soffolte da lunedì verranno bloccati per non creare disagio alla stagione balneare e verranno ripresi dopo l'estate. Dopo tanti anni finalmente abbiamo realizzato, grazie alla regione Abruzzo, le barriere soffolte e i pennelli sul territorio più in sofferenza per l'erosione. I lavori termineranno lunedì per poi riprendere dopo la metà di settembre. Adesso diamo spazio ai balneatori per poter affrontare questa stagione estiva. Ovviamente hanno bisogno di ulteriore supporto con il ripascimento che attendiamo parta nei prossimi giorni. Adesso c'è anche in corso ripascimento morbido? Allora sì, c'è una prima fase di ripascimento che è quella gestita dal Comune con la sabbia portata da terra. Naturalmente è soltanto una prima fase iniziale perché abbiamo pochi metri cubi di sabbia da inserire. Il vero ripascimento è quello da mare che sarà gestito dalla regione e che attendiamo veramente con ansia. Noi abbiamo indicazioni che dovrebbe partire prima dell'estate, dunque tecnicamente entro la fine di giugno. Ovviamente questo è un ripascimento che attendiamo perché va a completare tutto il lavoro di scogliere e di ripristino dell'arenile che è stato distrutto a seguito delle mareggiate negli anni scorsi. L'estate le porte, già ci sono tanti turisti sulla sua costa? C'è molto fermento, siamo positivi e ottimisti anche perché effettivamente vediamo che c'è molta voglia di mare soprattutto aiutato dal bel tempo e siamo convinti che sarà un'estate veramente attiva e proficua.